Ma con chi credete di confrontarvi quando il vostro libro viene pubblicato e arriva sugli scaffali di una libreria? Sigla! Siamo nel mondo degli scrittori esordienti, degli scrittori che hanno esordito da poco o degli scrittori emergenti. Si danno un sacco di nomi più o meno gentili, che più o meno hanno una certa indulgenza nei confronti delle persone che rappresentano. Perché in realtà, per come la vedo io, non vuol dire niente dire essere uno scrittore emergente, esordiente, che è esordito, che non è esordito, uno scrittore sotterraneo. Cosa vuol dire? Non vuol dire niente. O sei scrittore o non sei scrittore? Al di là del fatto che tu pubblichi, cioè al di là del fatto che tu venga pubblicato o non venga pubblicato, se tu fai il gesto compositivo di scrivere un libro consapevolmente, se stai producendo qualcosa di veramente, di testo letterario vero, cioè non sei lo scrittore della domenica, se uno si mette là e scrive, al di là del fatto che ti pubblichino o che non ti pubblichino, tu sei comunque uno scrittore. Quanti scrittori vi vengono in mente? Che da vivi non sono stati pubblicati, poi da morti hanno avuto un successo planetario. Erano meno scrittori perché non erano stati pubblicati? No. Detto questo, il punto di cui vi voglio parlare io oggi è questo. Facciamo conto. Prendiamo il mio esempio, va bene? Claudio Pinna scrive un libro, viene pubblicato e adesso gli scaffali delle librerie virtuali o reali non importa. Io sono sul mercato con un libro. Arriva una persona, vede il mio libro, lo compra, lo legge e dirà bello, brutto, mi ha deluso, mi ha entusiasmato, ne leggo un altro, non lo leggo più, mi ha fatto schifo. Però, però, qua entra il discorso che vi voglio fare io. Questo lettore, in base a cosa dirà bello o brutto, in base a cosa, in che campo di gioco ci troviamo, in che ring siamo saliti, noi che abbiamo mandato un libro alle stampe. Vi faccio un esempio. Facciamo un esempio calato nella mia realtà. Nel momento in cui io scrivo un giallo classico, ipotizziamo un giallo classico, alla Agatha Christie. Già il fatto stia dicendo alla Agatha Christie, vuol dire che quando uno legge quei gialli pensa ad Agatha Christie o a Sherlock Holmes. Nel momento in cui io pubblico questo tipo di gialli, è nel momento in cui un lettore di gialli, forte o meno forte, ma un lettore che conosce il genere giallo classico, stia dicendo il giallo giallomondadori. Si legge il mio romanzo giallo da giallomondadori, per capire il tipo di giallo di cui sto parlando. Non è che fai confronto con gli altri disperati che come a me hanno provato a scrivere un giallo, hanno pubblicato, hanno corretto, si sono sforzati, hanno fatto la loro copertina, l'hanno autopubblicato su Amazon, o hanno trovato la mini micro casa editrice, o hanno trovato anche la media casa editrice, non importa, sono sulle librerie, sugli scaffali delle librerie. Non è che la partita è che siccome io sono Claudio Pinna, quello piccolino che ha scritto un libro, o che ha provato a scrivere un libro, l'ha pubblicato, eccetera, io mi scontro con gli altri semi sconosciuti che provano ad arrancare nel sottobosco, nello scantinato della letteratura gialla, e che quindi, ah ma Claudio Pinna è stato migliore di Pinco Pallino, ma in realtà il lettore non funziona così. Il nostro libro non è su quel ring che sta giocando, che sta combattendo, neanche per idea, toglietevelo dalla testa, voi che pensate di pubblicare un libro e farvi sentire dire, ah ma beh sì, questo è carino tutto sommato per essere un esordiente, per essere uno che non ha mai scritto, uno che sta provando a scrivere, tutto sommato un racconto, ma così così l'ho letto, non funziona così, non funziona così, è ovvio che non potete pensare di scontrarvi con, ma che ne so, mettiamo che io sia scrivendo un noir, non mi posso scontrare col dio del noir, non mi posso, nessuno può paragonare me a Chandler per dire Claudio Pinna è peggio di Chandler, è ovvio, il 99,9% degli scrittori di noir e di molti scrittori anche sono inferiori a Chandler come narrativa, come qualità, come potenza letteraria, questo è chiaro. Però tolti i mostri sacri, che comunque sono in riferimento, capite? Cioè se voi dovete pensare al titolo di campione del mondo e con Tyson che combattete non è contro il pugile, lo spero in partner della palestra sotto casa nel paesino sperduto in barbagia, no? Cioè dovete pensare al campione del mondo, perché il ring è quello. Non sarà il campione del mondo? State combattendo con i pesi massimi, mi capite? Cioè il più scarso degli scrittori italiani, se mettiamo al limite, ci coscriviamo la discussione a un territorio nazionale, il più scarso degli scrittori italiani che voi conoscete è comunque una persona conosciuta, è una persona che è arrivata lì, scrive bene, non scrive bene, non lo so, però vende. E il fatto che venda mette voi in condizione di scontrarvi con una persona che è apprezzato dai lettori. Il che vuol dire che scriviate bene o male, non importa, ma è con quel tipo di gente che vi dovete confrontare. Quindi non ha senso fare la guerra tra poveri e dire ah ma io rispetto ad altri che scrivono già lì così io sono più bravo, chi se ne frega? Cioè il ring, il campo da gioco su cui state giocando non è quello, è tutto, è tutto. Dal più scarso di cui magari sarete più bravi o sarete ancora più scarsi voi al migliore. Ma quando io lettore, io lettore, se io ecco mi metto a leggere un noir classico, è con questa gente qui che mi devo confrontare, che confronterò il mio scrittore. E con Chandler, con Kane, con James Hardley Chase, con i grandissimi nomi, con Dashiell Hammett se volete, con i grandissimi nomi dell'arboile del noir classico. Se io scrivo un giallo dialettale, è con Camilleri che sto andando a prendermi a pugni, mi capite? Cioè il problema è tutto qui. Bisogna stare molto attenti a quale terreno di gioco si sceglie. Se scelgo il giallo regionale, capite? Ci sono tanti scrittori che hanno ambientato, soprattutto in Italia, le loro storie gialle nella micro area. Se pensate a Bologna già c'è Lucarelli e c'è Loriano Machiavelli. C'è il gotico rurale di Raldo Baldini. Cioè c'è una marea di... è molto pericoloso, mi capite? Per non parlare di Milano, dove poi trovate Cervanenko. Se andate a Roma, chi trovate? Rocco Schiavone. Cioè, mi capite? È un problema devastante. Per non parlare di Napoli, di Pizzo Falcone, tutta la letteratura partenopea dagli inizi del giallo ad andare avanti. Cioè, è un terreno minato. Nel momento in cui voi vi... o se utilizzate un police procedural, vi trovate di fronte Ed McBain, vi trovate Hoa Leualo. Non è che vi trovate il disperato ragazzino che ha provato a mettere un paio di personaggi lì, li ha buttati, ha fatto un ciarpame, una confusione pazzesca in un giallo senza caponecoda. Il terreno è quello. O siete così originali da completamente allontanarvi da quel campo da gioco, anche se lo sport è quello, oppure vi prendete tante di quelle trambate, di quei pali in faccia che vi fate veramente male. Per quello che io voglio dire è questo. Quando uno scrittore si mette e pubblica il suo libro, non può pensare, ma io sono un esordiente, mio sono uno piccolo, mio sto iniziando, a chi gliene frega che tu stai iniziando? Il lettore vuole un buon libro, un libro che lo intrattenga, un libro che gli piace magari... cioè, ripeto, non tutti leggono solo per stare sotto l'ombrellone a passare il tempo. C'è gente che legge per il gusto della lettura come faccio io. Quindi, se a me è capito un libro tra le mani che è ben scritto, ma è scritto... cioè, che è ben scritto come storia, che è una storia interessante, il solito giallo in trecce così, ma si è scritto in modo piatto, col solito stile veramente che mi ha stufato di questi thriller che sono tutti uguali. Ecco, io quel giallo... perché devo leggere Lo Sconosciuto? Mi compro i thrilleristi moderni, che sono quelli che leggerò, per dire. O perché mi devo leggere, che ne so, uno che scrive giallo classico all'Agata Cristi, se magari c'è Agata Cristi e gli altri migliaia che hanno scritto come Agata Cristi. Mi capite? Diventa molto difficile, nel senso che, se voi volete spostare, quello di cui mi sono convinto io, quello di cui mi sono convinto io, che è una cosa chiaramente molto difficile da fare, che chiaramente il mercato non consente così facilmente, se stiamo parlando di casi editrici che vi devono pubblicare. Se parliamo del self è tutto un altro discorso. Ma la chiave, l'idea che mi sono fatto io, la chiave di lettura, il modo per scardinare questo, per aggirare questo meccanismo del confronto diretto con qualcuno dei grandi, è cercare di avere un minimo di originalità. L'originalità, dove cavolo la trovate? Dove l'andate a cercare? L'andate a cercare nel sistema ingegnosissimo del giallo classico? C'è stato John Dickson Carr, che è stato il maestro indiscusso di questo tipo di letteratura, c'è stata Agata Cristi. Volete quello più avventuroso? C'è stato Conan Doyle. Mi capite? Cioè, anche là è molto difficile. Se andate sul poliziesco diventa ancora più complesso, perché ormai scrivono tutti i polizieschi. Se andate, per esempio, io che vivo in Svezia, se voglio scrivere un giallo scandinavo, come ho fatto, perché l'oltre ha ambientato in Svezia, non posso scrivere come Henning Mankel, mi capite? Perché alla fine divento un epigone di Henning Mankel. Alla fine si legge Camilla Lekberg, Henning Mankel e tutti gli altri svedesi, che sono svedesi, che scrivono del loro ambiente. Per cui, quello che io vi voglio dire, se voi non siete forti col gancio destro, ma fate il gioco di gambe. Mi capite? Sul ring se no prendete tanti di quei colpi, che al primo round siete fuori in coma in terapia intensiva. Il trucco, secondo me, per sottrarsi a questo scontro frontale troppo devastante, a meno che non siate dei mostri della letteratura, esplodete, allora vi faccio i complimenti. Però, voglio dire, la realtà è che se voi combattete su quel ring, e poi c'è anche un problema di arrivare ai lettori, c'è un discorso molto complesso, ma chi vi legge quei quattro gatti che vi stanno leggendo quando avete pubblicato, non pensate che saranno molto indulgenti con voi se avete scritto un libro da... indulgenti con voi se avete scritto un libro schifoso. Perché il riferimento non è il libro schifoso, il riferimento è la buona letteratura, che io leggo a tonnellate qua dietro di me. E se un esordiente mi diceva, ho scritto un giallo bellissimo, fighissimo, leggilo, ti piacerà di sicuro, ed è scritto coi piedi, anche se la storia può essere bellina, può essere intricata, ma è scritto coi piedi, non lo leggerò mai più. E il rischio è questo, che se voi scrivete male, male qualunque cosa voglia dire, nel senso, non siete riusciti a catturare l'attenzione, non siete riusciti a creare personaggi giusti, l'intreccio è debole, o comunque, una cosa che faccia dire a questo libro non vale il mio tempo, avete perso la battaglia e probabilmente la guerra, perché il secondo libro non lo compreranno, il secondo libro vostro qualcun altro magari, ma non funzionerà col passaparola, e il primo lettore l'avete perso. Per cui, l'idea che ho io, lo stratagemma che io penso possa funzionare, chiaramente, vi ripeto, tenendo conto che dovete saper scrivere, qualunque cosa vogliate intendere, adesso non voglio entrare troppo nei particolari, ma tenendo conto che sapete scrivere, se sapete scrivere, siate furbi e non mettetevi sul ring con Tyson, spostatevi di lato, cercate di dire qualcosa che appartiene al noir, o al giallo scandinavo, o al police procedural, però spostatevi un po' di lato, spostate qualcosa in modo da avere un punto di vista, che sarà quello adottato dal lettore, che gli farà dire, però lo vedi che questa cosa, in realtà, che non deve essere perfetto il personaggio, che deve essere uno che ha una gamba di legno di nome Smith, per citare Mary Poppins, e che poi, però, gli manca un occhio, gli manca il dito, però, con la telecinesi, trasporta le cose e riesce a fare le cose. Non è questo, non è un personaggio assurdo. E, secondo me, per come la vedo io, può essere un modo di narrare la storia, può essere un'ambientazione, può essere un approccio narrativo, possono essere le cose, inventatele voi, io non lo so. Però vi dico, per esempio, in quello che io scrivo, ambientandolo in Svezia, in questo caso quello che ho scritto ne sto scrivendo un altro, la cosa che emerge è che sono l'ambientazione scandinava, ma la scrittura è di un italiano, che parla del mondo svedese. Non è uno svedese che parla della Svezia, è un italiano, residente in Svezia, che parla del mondo svedese, che vi fa vedere il mondo svedese con gli occhi di un italiano, mettiamola così, chiaramente con la mia scrittura. Per cui, vedete che già la cosa diventa diversa, diventa diversa. Poi magari non piace, però vi ripeto, mi sto spostando dal gancio destro di Ending Mankel, o dal Police Procedural di Qua Vale Wallò, per dire. Per cui, capite, cioè, il ring è quello, vi confronteranno con quello, quindi scrivete la cosa migliore possibile, perché il ring è quello. Però abbiate l'intelligenza di capire che se siete veloci nel gioco di gambe, non aspettatevi di mandare il diritto a segno e di far cadere l'avversario, perché è molto improbabile. Cercate di intrattenere, di far vedere un bello stile al pubblico che vi sta guardando e dirà, però lo vedi, questo ha perso, però cavolo, hai visto come se l'è giocato, un po' di colpi ha messi a segno, hai visto che il gioco di gambe, come saltava, come volava. Magari se lo arrivano sul ring lo vengo a vedere perché è spettacolare come tira di box. Chissà. Per cui, il concetto che io vi volevo dire, poi chiudo, perché se no diventa un video troppo lungo, però per capire cosa voglio dire. Quando voi scrivete qualcosa e lo fate leggere al lettore, il lettore non è il lettore che legge gli esordienti, il lettore che legge i disperati che non sanno scrivere, i disperati che sanno scrivere un po' meglio dei disperati che non sanno scrivere. Il lettore è quello che legge i grandi scrittori. Dai classici del genere, i classici della letteratura, ai classici dei best seller, che al di là di tutto sono comunque libri vendutissimi e che quindi formano il gusto di una marea di lettori. Quindi, voglio dire, è questo il problema? Che voi non potete pensare, ho fatto un libro così così bellino, me l'hanno pubblicato, magari piace. No, no, no. Fate del vostro meglio perché i pugni che vi arrivano sono quelli di Tyson. Grazie per essere arrivati fin qui alla prossima. Ma con chi credete di confrontarvi quando mandate un libro? Ma con chi credete di confrontarvi? Ma con chi credete di confrontarvi quando il vostro libro?